Ricci! Damiano, adesso come facciamo a girare lo sport? Hai preso freddo sciando e non hai più voce. Uso questa. Bella idea. E sai adesso cosa vediamo? Certi di Mobile Amiga, sor bravo! Che all'inizio dell'anno sono ancora più convenienti. Ricci! Sala con credenza, vetrina con schienale tappezzato, tavolo allungabile e quattro sedie a soli 1730 euro. Parete in finitura noce da 2,70 metri con basi, cesto e antivetro a soli 1190 euro. Cameretta con tre letti più scrivania e sedia a soli 1250 euro. Ricci! Visto, e sai come si può pagare? 48 mesi a tasso zero, oppure 60 mesi. E la prima rata? Luglio 2010 e ancora regali, regali, regali! Ricci! Damo due pusti, tv LCD con digitale terrestre incorporato e per gli sposi un bellissimo pacco corredo. Ricci! Auguri! È vero, è iniziato il 2010, buon anno, buon anno! Felice anno a tutti, eh sì, a chi è già nostro cliente e a chi lo diventerà quest'anno! Ricci! Felice anno a tutti, da Mobilia Megastore, tutti i giorni a Casetta Sud.